Io per esempio penso che noi dobbiamo rimanere nell'euro e sarebbe un errore uscire. Ma questo lo pensano anche loro nel frattempo, no? Non lo so. Noi abbiamo detto sempre referendum, abbiamo detto che i cittadini devono scegliere. Ma lo dite ancora pur sapendo che non possiamo fare un referendum sull'euro perché fa parte di un trattato internazionale? Ma in realtà non è vero. A me la politica in 5 anni ha insegnato che non è vero che certe cose non si possono fare. Si trova sempre il modo di farle. Questo l'ho imparato in 5 anni. Il tema dell'euro è un tema che se vogliamo parlare tecnicamente si può affrontare le problematiche che ha creato, quali sono le sacche dove si deve andare a intervenire. Però noi abbiamo raccolto le firme e siamo convinti che si possa fare. Dopodiché sappiamo anche dove andare nel rapporto con l'Europa ad incidere su alcune cose che non funzionano e va fatto. Se fate il referendum è perché vorreste uscire dall'euro. Io su questo non sono d'accordo. Noi abbiamo d'accordo a uscire dall'euro? Io credo che una scelta così grossa non si possa prendere da soli. È una scelta che coinvolge le vite. Guardi che cosa è successo. Lei ha un referendum sull'euro, dentro o fuori? Cosa voterebbe? Non si dice cosa si vota. Non si dice. È un rappresentante di un movimento importante come i 5 Stelle. Non deve dire sì, se io voglio votare per lei, devo sapere cosa pensa sull'euro. Allora, non è un tema ideologico. È un tema tecnico. Io credo che l'euro abbia portato tanti problemi, soprattutto al costo del lavoro, alla produttività delle imprese, che sia diventato l'unico modo per fare inflazione. Cioè, ci sono delle cose tecniche che appartengono tra l'altro alla mia competenza. Dopodiché, un conto è dire che cosa vuoi fare con l'euro? Chiediamo le cittadini. Un conto è dire, ce l'avreste un modo per? Ci sono molte modalità. Non mi ha mai risposto alla domanda. Ma tornasse la lira, avremmo banconote da 1900 lire. Ma dipende chi ti fa la banca, dipende dove torna la sovranità monetaria, dipende da molte cose. Cioè, non si può banalizzare un tema così. Oggi il problema è chiaramente un problema di sovranità. Un paese ha dei problemi a chiedere dei denari, perché li deve pagare e crei titoli di Stato che non si riescono a vendere, per cui il governo prende il telefono, chiama le banche e chiede il comprato. Lei ha un referendum euro sì, euro no? Cosa voterebbe? Non lo so. Non lo so. Bene. Neanch'io. No, io lo so, mi piacerebbe rimanere nell'euro.